...e tale integrazione, le razze che giocano insieme per un fine più alto, cioè per ricostruire, per creare mondi nuovi e speranze nuove... ...è finito il primo tempo, ecco lo là, due a due, pareggio Salomonico, due a due... ...e guarda, guarda dietro, un po' provato, che dici? Ma io lo vedo in gran forma, secondo me gioca fino all'ottantesimo... ...allora adesso io devo scendere giù in campo perché ci sarà una fase di intervallo nella quale noi non ci fermiamo, ci sarà adesso un piccolo spazio pubblicitario, poi torniamo in campo con i protagonisti e mentre i calciatori si fanno la doccia alcuni di loro saranno con noi sul campo a commentare, di albergo la doccia proprio sul campo alcune... ...Milli mi sa che qualche cosa che non andava tra Verona e Maradona ci sia, perché continuano a discutere e mi sembrano troppo amichevole... ...sanno dieci cose da sanare ancora... ...andiamo che qualche precedente c'è, chissà che non siamo venuti fuori... ...andiamo ad indagare allora, a tra pochissimo... ...ci vencerà Alessandro Antinelli e Matteo Martini... ...a tra pochissimo... ...guarda ci sono, attenzione, c'è qualcosa da dire e ce l'hanno ancora... ...eh sì... ...no ce l'ho da guardare io... ...eccolo, eccolo... ...eccolo... ...eccolo... ...eh sì... ...volemo se bene... ...eh insomma, è insomma... ...ci sono dei precedenti tra Maradona e Verona... ...insomma, io volevo, ho sentito Maradona dire, io volevo soltanto parlarti, ma Verona si è girato dall'altra parte, adesso va dai tifosi... ...voleva solo parlarti Diego, solo... ...eccolo... ...eccolo... ...eccolo...